Quindi, che cos'è l'espositore? L'espositore è comunque una fonte, una sorgente di luce che ci permette di incidere il nostro telaio e quindi di fare indurire l'emulsione dove noi vogliamo che indurisca. Logicamente nell'espositore noi dovremo applicare comunque il nostro telaio con la pellicola disposta dalla parte del toner attaccata alla parte emulsionata del telaio e fare in modo che arrivi la quantità di luce sufficiente da far indurire l'emulsione dove ci serve. Né far arrivare troppa luce né troppo bocca, il quantitativo giusto. E se avete dei dubbi oppure volete farci le vostre domande sulla serigrafia e sulla stampa noi siamo disponibilissimi, potete scriverci a info-cplfabrica.com oppure visitare il nostro blog sulla serigrafia dove troverete già tante domande ma sicuramente ve ne verranno di altre per cui iscriveteci e noi vi aspettiamo!